Sono circa 12.000 i mezzi che attraversano quotidianamente il territorio di Scafa. Snodo strategico per la viabilità della Val Pescara, il comune dell'entroterra è una zona strategica di passaggio per i più svariati motivi. Dagli spostamenti dei lavoratori pendolari, anche verso la capitale, a quelli per ragioni religiose, volto santo ed eremi su tutti, sportive, si pensi agli impianti sciistici, ai percorsi escursionistici sulla vicina Maiella, turistiche e di svago, con le sorgenti della vino che attirano migliaia di visitatori ogni anno e perfino malavitose, considerando l'alto numero di furti registrati recentemente nei comuni della vallata. Anche per questa ragione il comune di Scafa ha presentato un progetto per la videosorveglianza del territorio nell'ambito dell'incontro col prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, a cui nei giorni scorsi hanno preso parte i sindaci della Val Pescara e della Valle del Tavo per affrontare il tema della sicurezza dopo i recenti episodi di cronaca registrati nei giorni scorsi. Il progetto, che prevede l'installazione di 11 telecamere con sistema OCR, che consente la lettura delle targhe dei mezzi in transito nelle zone strategiche del territorio comunale, finirà nella graduatoria del bando del Ministero dell'Interno, che ne valuterà i requisiti per la fattibilità e l'eventuale finanziamento, come spiegato dal sindaco di Scafa, Giordano Di Fiore. Siamo rimasti d'accordo con tutti i comuni limitrofi, aver partecipato poi a questo bando, che ci dà la possibilità di essere, speriamo, finanziati dal Ministero per la collocazione di queste telecamere di ultima generazione, che hanno la possibilità di lettura immediata e quindi intercettare la problematica e l'eventuale furto in tempo reale. Noi siamo un fulcro della Val Pesca, siamo punto di snodo con l'autostrada, treno, ferrovia e autobus di tutta la vallata. Ringrazio anche i sindaci limitrofi che hanno collaborato in questo ragionamento. È vero che, ad esempio, a San Valentino avvengono più furti, però è vero pure che passano per Scafa, cioè non è che possono arrivare con l'elicottero. Quindi questo potrebbe bloccare a monte la problematica. Di quante telecamere si parla? Inizialmente il bando da 11 telecamere. È ovvio che il Comune deve fare la sua parte. In questo bando anche noi partecipiamo in forma attiva a livello finanziario, però con il comandare a stazione di polizia dei vigili urbani del nostro Comune già ci siamo attivati anche per alcune telecamere, non solo negli snodi importanti. Anche su tutto il nostro territorio abbiamo messo in campo uno studio per ulteriore telecamere. Il sindaco si è parlato nell'ambito di questo incontro anche dell'emergenza profughi e l'eventuale accoglienza che aspetterebbe poi ai comuni. Lo abbiamo visto anche con i migranti della Itamari. È ovvio che noi cercheremo, qualora il prefetto ce lo chiedesse, di confrontarci un po' meglio per capire anche come integrarli sul territorio. Abbiamo ricevuto anche gli ucraini in passato, quindi il problema di integrazione per noi è fondamentale oggi con un mondo allo sbando.